Tanto Napoli e soprattutto un immenso Cavani, ieri sera al San Paolo. Chi si aspettava un Napoli in crisi e un probabile dominio della Roma sarà rimasto deluso. Al quarto minuto gli azzurri sono già in vantaggio, ci pensa il solito Cavani che sfrutta al meglio un assist al bacio di Panneb. I giallorossi reagiscono e come da copione cominciano a macinare il gioco, ma un po' la forma smagliante di De Santis, un po' la scarsa vena realizzativa di destro, in Napoli va negli spogliatoi in vantaggio ancora per 1-0. Nella ripresa neanche il tempo di cominciare e Cavani raddoppia. La Roma a questo punto si sbilancia ancora di più e sempre Cavani a metà secondo tempo fa tris, mandando in visibilio i tifosi accorsi al San Paolo. Dopo tre minuti Osvaldo appena entrato al posto di uno spento destro accorcia le distanze, ben lanciato da Pjanic. Al novantesimo, in una delle tante ripartenze, arriva la quarta rete azzurra, grazie a maggio. Nel pomeriggio intanto sconfitta casalinga in attesa della Juventus, ad opera della Sampdoria, che sotto di un gol in infinità numerica per l'espulsione di Berardi, ribalta la gara grazie alla doppietta dell'ex canterano Icardi. Domenica quindi favorevole al Napoli, anche in virtù delle sconfitte della Fiorentina in casa contro il Pescara e dell'Inter a Udine, che soccombe sotto i colpi del solito di Natale.